Con Andrea Lisuzzo cerchiamo di analizzare questa sconfitta, una sconfitta che non è una bugia di remeritata purtroppo, il Grosseto sembrava andare a velocità doppia di noi a volte. No, il primo tempo l'abbiamo regalato, nel senso che non l'abbiamo fatto come le altre volte, che al contrario la prima parte di gara facciamo bene, invece poi magari nel secondo tempo come ad Ascoli siamo calati, invece oggi c'è capitato il contrario. Siamo stati anche tanto sfortunati che le uniche due palle, diciamo tra virgolette, errori tecnici che abbiamo fatto, le uniche due palle abbiamo preso gol e da lì non è facile, perché comunque in casa ci teniamo a fare bene e ricominciare tutto da capo dopo una settimana di preparazione non è facile. Per il secondo tempo credo che c'è stata reazione, è arrivato il rigore, il pareggiare era alla portata, abbiamo avuto un'occasione con Ayman a 10 minuti al termine dopo il gol di Gianvito. Questa è la partita, nel senso che questa è una sconfitta sicuramente meritata, sicuramente in un momento non felice per noi, ci tenevamo a fare il risultato sia per la classifica ma soprattutto per i tifosi che in casa ci hanno sempre sostenuto in maniera positiva, quindi era d'obbligo oggi fare un risultato positivo. Le partite poi si analizzano ovviamente a mente fredda e quello che sicuramente farete in settimana, così subito a caldo, problemi di condizione, di assenze, di una squadra che comunque si è chiusa per poi ripartire e ha trovato il gol alla prima occasione, che cosa vedi come causa scatenante di questa prestazione negativa? Io non sono la persona giusta per analizzare sotto il punto di vista tattico la partita, perché comunque ci sono gli allenatori e c'è tutto lo staff che lavora durante la settimana, quindi è una risposta che potrebbero dare loro. Sicuramente loro, sicuramente il Grosseto oggi è venuto qui e tutti si nascondono dietro il Pisa, che il Pisa è la squadra più forte, fatto sta che il Grosseto ha un buon organico, ha fatto i giocatori che hanno fatto fino all'anno scorso la Serie B e purtroppo il campionato è tutto così, si nascondono tutti dietro il Pisa e in verità ci sono squadre che sono forti come Pisa. Grazie.